L'infortunio sul lavoro questa mattina in un capannone di via Monterosa Corbetta, un uomo sarebbe rimasto schiacciato da un bancario. L'infortunato è una persona che lavora per il centro carico che era venuto per effettuare alcune operazioni di carico-scarico. Sul posto è giunto un mezzo della Croce Bianca di Sedriano unitamente all'equip medica dell'elisoccorso e alla polizia locale per i rilievi. Grazie a tutti.